Sento il peso del libro spingere il mio braccio verso il basso, mentre scendo le scale di corse mi precipito fuori. Un vecchio saggio di anatomia, roba seria. Se quello in cui ho creduto finora mi ha portato fino a questo punto, a che cosa è servito tutto questo credere? Quando ci sei tu, non ci sono le mie parole, e quando mi ritornano sei tu a non esserci più. Ecco perché ho preferito iscriverti.